Corona non perdona, ah con Fabrizio Corona, rivediamo cosa è successo con Fabrizio Corona Social, boom Vediamo cosa è successo, grazie Smiglia Ciao Umi, per il mio progetto ho bisogno che mi giri i contatti di Enke e Bobbo Vieri No, non ti girerò il contatto di Bobbo Vieri né di Enke Soprattutto quello di Enke che è una persona che ride e che lavora Vediamo cosa è successo Quando ci possiamo fare, Magno Colo Magno, ma intendi baciarci come al liceo? Guarda, non sono ancora gay Probabilmente tra 40 anni farò un test Ma per adesso, no Magari farò un test sulla salaria con delle dondine, con il pisellino Tra 40 anni, nei miei 60 Ammettiamola così Ammettiamola così Nessuno ha detto che le donne col pene non sono donne Ho detto donne col pene Cosa c'è di male nel dire donne col pene? Grazie Giacomo Cosa c'è di male nel dire donne col pene? Eh? Si dice donne full option Ora mi sento Mi sento un po' a disagio Però sono Vorrei dire una mia Una mia ma non lo voglio dire adesso Lo dirò poi al Cerdero Podcast Fabrizio Corona torna sull'argomento Luis Spiegando questa volta che le è stata fatta una proposta di 15.000 euro Per acquistare delle foto Allora Fabri Ho un tipo che ha 8 scatti di Luis Che si bacia con un ragazzo Vuole 15k però Cosa faccio? Sono in treno Prende poco Scendo fra 10 minuti Calcola E Fabrizio Corona Caps Lock Chiama Grazie Veronica Chiama Ciao Mi sono lasciato Chiama Grazie Gabriel Come va a te? No non ti ammazzare Eh Non Va ok dai Va bene Grazie Axel Scendo e ti chiamo subito Si si parla con un altro ragazzo Bene a quanto pare il ragazzo in questione sembrerebbe essere proprio sdru Ve la ricordate? Ora sposto la chat Questa è la foto Ve la ricordate? La bomba sganciata ieri sera Emote della bomba sganciata Nella foto in anteprima il ragazzo del Wissal Presto altre immagini Ragazzi la censura è la mia La censura è la mia Io qua ho degli scatti sul telefono Cioè Io ero il paparazzo Ma oggi che c'è la Roma vai live Faccina triste Sei proprio un discolo Ma io non sono Non me ne frega niente della Roma Scusatemi Che me ne frega a me Comunque grazie per la salva Ora ti ringrazio Camera Eccolo Per la prima volta Ancient sword Ora ho altre 7 foto Quindi grazie Va giù Grazie per l'anno Sì sì Sono io qua Ragazzi Io Vabbè Continuiamo il video Ha denunciato per cosa? Sono personaggi pubblici ragazzi Se io gli faccio le foto Degli paparazzo Cosa devono denunciarmi Che sono in mezzo alla strada? E allora? Adriano con il c***o tiro Che pippava la cocaina Insieme alle Influencer e streamer È divenuto virale Tempo fa per il suo Banda Twitch Ma poi successivamente Le trattative Sembrerebbero essere saltate Dato che Fabrizio stesso Ha postato una chiamata Con il noto streamer Omiettel Cosa che chiaramente Viola la legge Dello stato italiano Ecco Viola la legge Dello stato italiano Ragazzi Viola la legge Dello stato italiano Che tu non puoi postare Le chiamate registrate Con un'altra persona E infatti poi Postato una story Chiedendogli scusa Grazie Leo Ragazzi A chi hai mai chiesto Fabrizio Corona Scusa Bellaomi Bentornato A chi hai mai chiesto Grazie Ti mando un bacio A chi hai mai chiesto Corona scusa A nessuno A nessuno Pubblicamente A nessuno Leo mi ha ribattuto Dicendo Per questa volta Ti perdono Ma che non succeda Mai più Non aggiungo altro Mi lascio le spezzone Di quel filmato Ragazzi E io ho risposto Perché Io lo posso denunciare A Fabrizio Io lo posso denunciare A Corona Che drama Linguaggio Per questa volta Lo perdono Fabrizio Corona Ma che non succeda Mai più Grazie Benji Ma che non succeda Mai più Fabrizio Fabrizio Mai più Fabrizio Ricordatevi Fabrizio Fabrizio Non succeda Mai più Non aggiungo altro Ma vi lascio Le spezzone Di quel film Corona non perdona E a me ha perdonato No 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 non mi ha perdonato Perché di te Perdonare Mi ha chiesto scusa Con due robe diverse Mi ha chiamata Fatemi sapere con un commento Qui sotto Cosa ne pensate Noi ci vediamo Un prossimo video Mai più Mi ricorda Io e Fabrizio Questo Non ti permetto Mai più Mai più Ok Mai più Va bene Mai più Sottami la mia madre Io ero così E c'erano le scritte Però ovviamente Non ci posso fare niente Ragazzi A me sta videocamera Al centro Mi dà fastidio Sono abituato A guardare di là Perché c'era il chat E ora sto con la faccia Sempre così Va bene Stronzo Stronzo Questa è quella Grazie Nariz Ok Thank you Mai più Mai più Non nominare mia madre Mai Mai Ti stacco la faccia Io Stronzo Mai Ti uccido Buttatelo fuori Buttatelo fuori Signori Ti uccido Ti uccido Buttatelo Cosa ha detto Cosa ha detto Signori Io Faccio appello Io me ne vado Allora O va via lui O vado via io Te ne puoi andare Io li ignostro Proprio però Allora Il ragazzo della foto Che si bacia con Luis Chi è? Uno normale È un raga Uno normale Io cosa dovevo dire È un influencer Ma famoso Non famoso Ok Sì sì Al minimo si conosce Ti faccio due tre domande Prima momento Ma Cioè Luis Sal Non è dichiarato gay Cioè l'ultima foto Che ha postato È come una tipa Grazie Tonino Guarda io Allora io qua Ovviamente Non Non posso dire niente Raccontavo Io in quel momento Raccontavo La mia storia Io ho fatto la foto E raccontavo La mia storia Di quella foto Io ho fatti Cioè Diciamo che Un po' La mia linea Di racconto Perché Volevo capire Quanto si poteva fare Da questa Storia Per cui io potevo Spingere Su una linea Di racconto Diciamo Volevo spingere Su una linea Di racconto Diciamo La mia storia Capito Allora Il proprio Il ragionamento È questo Cioè Il bacio di Luis Sal Con uno Non vale Nulla Vale Alla luce Di quello Che ho fatto uscire io Del mio canale Telegram Che è ovunque E si spamma E si spamma E si spamma A dicembre Avevano già un ufficio E si spamma Un nome Che abbiamo Mai più E ora Siccome Fabrizio Ha pubblicato queste cose E io vado Da Alfonso Signorina Vado da chi? Da Novella Duemina Peccato che non le posso Chiamare ora Grazie Brodar Scusatemi Capitale sociale 100 miliardi Wow Uwe bro Non riesco a seguirti Sempre ma il subino Di fiducia ci sta Non ti preoccupare Grazie Ma hai più Non nominare mia madre Sei Ciao Madi Ad Arnaiv I nostri uffici sono chiusi Richiamare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19 Somewhere Over the rainbow Non posso Non posso Non posso lasciare un messaggio io Non posso lasciare un messaggio Allora mi ascolterò la canzone Stai zitta Stai zitta Non posso Grazie Grazie Sempre a rovinar tutto Sempre a rovinar tu SEMPRE DOBER TUTTO!